Buonasera, siamo volontari del Comune di Venezia per la consegna delle mascherine. Facciamo il giro di tutta Mestre. Può aprire che le lasciamo giù nella cassetta della posta? Grazie. Speriamo di liberarsene prima o dopo. Buonasera, siamo volontari del Comune di Venezia e stiamo consegnando delle mascherine in giro per la città. Posso lasciarle da qualche parte? Grazie.